Ciao a tutti amici di Passione Monete e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi, come state già vedendo, è un video un po' particolare e prende spunto dalla domanda che è stata fatta in un commento dal nostro amico collezionista Tommaso Beccani, che saluto e che ringrazio per lo spunto. Tommaso ci chiedeva, in futuro puoi fare un video dove spieghi secondo te i migliori negozi e siti dove acquistare monete e se secondo te conviene acquistare da mercatini e cose del genere, perché anche io colleziono monete ma principalmente del Regno d'Italia precedenti, quindi anche stati preunitari. Sempre molto difficile trovare e capire dove cercare, come capire se le monete sono vero o false, se i venditori sono affidabili ed altre cose, soprattutto perché sono alle prime armi e quindi mi piacerebbe facessi un video a riguardo. Intanto saluto Tommaso e ho deciso di prendere spunto da questo commento per fare un video dove darò consigli su dove acquistare le monete, sui venditori, dove mi rifornisco io, ma non solo limitatamente al Regno d'Italia, ma siccome ho collezionisti che mi seguono per varie monetazioni, andremo a vedere tutte le monete. Io partirei inizialmente dai cataloghi, in quanto per rispondere alla domanda di come valutare se sono vero o false, eccetera, la prima cosa è avere un catalogo. Per quanto riguarda l'euro, per quanto riguarda l'euro io consiglio questo catalogo, quindi unificato euro, edizione 2019-2020, che ha un prezzo di copertina di 29 euro, ma che potete trovare sicuramente a prezzi minori. Io questo catalogo l'ho comprato da poco, vi ho fatto vedere in un altro video la copertina e in un prossimo video sicuramente vi mostrerò tutto nei dettagli. Quindi per quanto riguarda l'euro, questo qui è il catalogo che vi consiglio. Se invece preferite collezionare ad esempio altre monetazioni, andiamo a vedere le monetazioni del Regno d'Italia e Repubblica Italiana. Per il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana ci sono due alternative, che sono il catalogo Montenegro e il catalogo Gigante. Io personalmente, questo qui è il Montenegro, consiglio il catalogo Gigante. Il catalogo Gigante, che potete trovare tranquillamente sul sito Amazon, se non sul sito appunto Gigante stesso, è un catalogo che vi farà una panoramica completa di tutte le monete italiane dal 700 all'euro. In realtà per essere più precisi è dalla fine del 700 all'euro escluso. Quindi se collezionate Repubblica Italiana, Regno d'Italia, Stati preunitari, a mio parere è l'ideale. Come possiamo vedere qui è anche un voto molto alto e ha diversi acquisti, quindi secondo me questo qui è il catalogo top. Sempre di Gigante abbiamo anche le Banconote, quindi al catalogo Monete Italiane possiamo aggiungerci il catalogo Banconote. Carta Moneta Italiana, Regno d'Italia, Repubblica Italiana. Non è la mia collezione principale, le Banconote, però ho anche questo catalogo perché comunque anche questo è piuttosto utile, fatto bene e anche qui vediamo che ha una valutazione alta. Quindi se le nostre collezioni riguardano come il nostro amico Tommaso, Regno d'Italia, Repubblica Italiana, questo catalogo che vedete e quest'altro sono quelle che vi consiglio maggiormente. Abbiamo visto anche l'euro, se invece preferite collezionare monete estere o banconote estere, questo è quello che vi vado a consigliare. Questo catalogo, conosciuto come Krause, scritto con la K, è il World Paper Money e contiene tutte le banconote emesse al mondo. C'è il catalogo fino al 1960 e quello dal 61 al presente. Io ho la versione PDF, in quanto la versione cartaccia è davvero enorme, sono migliaia e migliaia di pagine, ad esempio questo catalogo sono 1200 pagine e come potete vedere qua la versione PDF è anche molto comoda perché noi andiamo su uno stato e possiamo vedere tutte le banconote. Possiamo vedere che per ogni banconota c'è l'immagine fronte e retro e un valore a seconda anche della conservazione. Tenete conto che questo valore è comunque indicativo perché comunque un catalogo mondiale non potrà mai essere preciso al centesimo su qualsiasi banconota e comunque sono valori per il mercato americano, quindi espresso in dollari e per il mercato americano. Ovviamente essendoci tutte le banconote di tutto il mondo c'è compresa anche l'Italia. Come possiamo vedere diamo un'occhiata veloce, quindi abbiamo Banca d'Italia, in questo catalogo abbiamo detto dal 1961, quindi abbiamo la Repubblica e non il Regno ovviamente e abbiamo tutte le immagini, devo dire che anche se sono in bianco e nero sono piuttosto belle, piuttosto ben fatte, qua abbiamo la Giamaica. Ovviamente non è un catalogo specializzato come quello che vi ho fatto vedere in precedenza, perché? Perché questo cataloga tutte le banconote di tutto il mondo e non solo quelle italiane. Stesso discorso invece per le monete. Il Krause ha anche l'edizione World Coins, quindi dedicato alle monete, ognuna di queste edizioni è un secolo diverso. Qua abbiamo quelle del ventesimo secolo, quindi dal 1901 al 2000. In questo caso sono più di 2300 pagine, quindi anche in questo caso ho deciso di prendere la versione PDF che trovate tranquillamente su internet, mentre se preferite quella cartacea la trovate tranquillamente su Amazon. Anche qua abbiamo tutte le nazioni, quindi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta davvero e vi faccio vedere qualche esempio giusto insomma per farvi scorrere qualche pagina. Qua partiamo con la Francia e partiamo con un determinato valore nominale, quindi ad esempio 10 centesimi, poi abbiamo i 20 centesimi, i 25, i 50 e così via. andiamo a salire, abbiamo tutte le monete francesi fino a quelle da 20 franchi, da 100 franchi, abbiamo il codice Krause che è riconosciuto a livello internazionale e poi abbiamo i valori della moneta, la tiratura, da cose composta, questa qua è 90% di oro eccetera eccetera. Anche qua ovviamente abbiamo l'Italia, dato che contiene tutte le monete mondiali, abbiamo l'Italia, questo qua va per secoli, quindi partendo dal 1900 in poi abbiamo le monete di Vittorio Emanuele III e poi la Repubblica italiana. Se vogliamo vedere le monete di Vittorio Emanuele II e Umberto I prenderemo il catalogo dedicato al XIX secolo. Ecco qui che scorriamo tutte le banconote, queste qui sono anche appunto quelle della Repubblica, quindi questo qui è un ottimo catalogo per monete mondiali ma anche un buon catalogo per monete italiane, se invece volete proprio specializzarvi in monete italiane vi suggerisco appunto il gigante, come dicevamo prima. Se invece volete farvi una cultura e non volete comprare libri, io quello che vi suggerisco è la moneta.it che è davvero un bel sito, ha diverse sezioni, una sezione generale dedicata al mondo numismatico e poi andiamo alle sezioni monete antiche che per monete antiche si intendono precedenti al medioevo, quindi greche e romane, monete medievali, quindi di bizantine, regni barbarici, zecche d'Italia, altre monete medievali, le monete moderne e poi abbiamo stati preunitari, regno d'Italia, Repubblica Italiana, monete estere e per concludere euromonete. Queste qui sono le sezioni principali, poi abbiamo tante altre sezioni, rubriche speciali, approfondimenti, medaglistica, banconote, altre sezioni eccetera eccetera. Quindi se volete leggere tanto e non volete investire troppi soldi, gratuito su internet, vi consiglio la moneta.it. Andiamo ora a vedere dove comprare invece il materiale che a volte vi faccio vedere, a me piace molto il materiale Masterfill, qua potete scaricare il catalogo che è un pochino pesante da scaricare, quindi io vi faccio vedere per adesso qualcosa che c'è disponibile sul sito. questo. Questi qui sono i catalogi che, scusate, i raccoglitori che vi ho fatto vedere nell'altro video, quindi ad esempio raccoglitore di Vittorio Emanuele III, potete personalizzarlo come volete, quindi ad esempio il raccoglitore con custodia però vuoto, inserendo tutti i fogli senza l'oro e le coloni, se collezionate anche le coloni, se collezionate anche l'oro eccetera. Una volta presi tutti i raccoglitore avrete questo bellissimo impatto che vi permette di raccogliere dal Regno di Sardegna alla fine del Regno d'Italia, che è un po' quello che vi ho fatto vedere nell'altro video che è disponibile sul canale. Ovviamente questo vale per qualsiasi tipologia di monetazione. Questi qui sono i raccoglitori che ho io per l'Euro, ad esempio. Questa qui è la versione Big, molto spessa. Se invece avete una collezione piccola di monete, potete utilizzare questi che sono più piccolini. Linee di massimo in questi vi posso dire che ci stanno 12-15 fogli, mentre nella versione Big, che è questa che vi ho fatto vedere, ci stanno 20-25 fogli e i fogli stessi che potete comprare per le monete da 2 Euro commemorative, ad esempio, sono questi, secondo me molto belli, molto ben fatti, sono gli stessi che utilizzo io. Abbiamo una descrizione della moneta e l'immagine della moneta. Passiamo ora però ai negozi veri e propri. Per quanto riguarda gli Euro, io consiglio di comprare dai mercatini, onestamente, perché sono monete poco falsificate, per niente falsificate, oserei dire. Quindi questo è il mio consiglio. Se però non abbiamo mercatini vicini, io quello che consiglio è Frontini. Frontini è un negozio a Milano, vicino al Duomo, vicino a Cordusio. Io mi trovo davvero molto bene. Se non siete vicino a Milano, potete comprare online. Cliccate su vai al cartello e registrandovi, facendo login, potete comprare online. Io non sono registrato perché abitando vicino, acquisto direttamente il negozio. Qua potete cliccare monete Euro, 2 Euro commemorativi, singoli e qua potete scegliere per anno. Ad esempio andiamo nel 2015, vogliamo prendere il 2 Euro di Andorra, 31 Euro dentro il blister. Ovviamente questo qui è un esempio di Andorra che è particolarmente raro, però i prezzi sono in linea col mercato, quindi 3 Euro, 3,50 Euro. Per ogni moneta da 2 Euro commemorativa abbastanza comune. Magari ai mercatini trovate qualcosina, 50 centesimi in meno, però io devo dire che qua mi sono sempre trovato molto bene, è sempre ben fornito e se gli manca qualcosa voi lo chiedete ve lo fanno arrivare. Quindi per quanto riguarda l'Euro io consiglio frontini. Per quanto riguarda invece le banconote, le monete del Regno d'Italia e della Repubblica italiana, questo qua è un sito che mi ha permesso davvero di completare molto la mia collezione, si tratta di Numismatica Lago Maggiore. Ha un negozio appunto a Verbania, quindi vicino al Lago Maggiore e anche un negozio a Milano a 10 metri dal Duomo. Anche qua ovviamente è possibile acquistare online, quindi se non abitate in zona Milano nessun problema, acquistate online. Qua abbiamo la sezione ad esempio Vittorio Emanuele III in cui sono presenti tutte le monete, qua abbiamo davvero monete per qualsiasi fascia di prezzo, qualsiasi portafoglio, da monete rarissime in conservazione fior di conio, per cui è disponibile anche la foto, quindi potete vederla direttamente su internet, che vanno da prezzi altissimi, tipo 12.000 Euro, altissimi nel senso in senso assoluto, ma in linea col mercato, ma non preoccupatevi perché qua parliamo di monete d'oro, ma andando a scendere troviamo tranquillamente monete da 8 Euro, 10 Euro, quindi la stessa moneta 2 lire 1914 è disponibile in tantissime conservazioni come possiamo vedere, così via per tutti gli altri anni, per ogni moneta, soprattutto da un certo valore in su è disponibile la foto, io mi sono sempre trovato molto bene ad acquistare qua. Le alternative sono due, o acquistate in negozio o online, se le acquistate in negozio potete acquistare a Verbania oppure a Milano su appuntamento, quindi a Verbania sempre aperto, a Milano su appuntamento. Vediamo anche la Repubblica Italiana, anche qua abbiamo pezzi molto rari disponibili, queste qua sono le classiche 500 lire di prova d'argento che superano i 4 zeri e poi a scendere abbiamo tutte le altre monete. Io qua ho acquistato fra alcune delle principali rarità, il 2 lire del 46 e l'1 lire del 46, entrambe a cifre sotto i 100 Euro che vi assicuro è davvero difficile trovare da altre parti. Sempre qui ho acquistato il 5 lire del 56, io l'avevo pagato 99, vedo che adesso qua è disponibile la 100 Euro e vi assicuro che questa moneta qua non è male come prezzo. Così via, poi ci sono tutte anche le altre monete a 3 Euro, 2 Euro, 1 Euro, quindi insomma abbiamo monete davvero a prezzi molto accessibili per tutti e il bello è che anche qua ci sono disponibili le fotografie. Quindi ricapitolando, per quanto riguarda Regno e Repubblica, uno dei negozi che vi consiglio è Numismatica Lago Maggiore. Numismatica Ivlia, che è in provincia di Monza Brianza, quindi sempre in Lombardia, ma si può sempre comprare online, è un altro negozio che vi consiglio, davvero molto specializzato, il proprietario davvero preparatissimo e molto simpatico. Quindi un sacco di lati positivi, se devo trovare un piccolo lato negativo, il sito non è aggiornatissimo, quindi noi andiamo magari a vedere monete regionali, per intendere le monete preunitarie, andiamo a vedere Lombardia, giusto per farvi un esempio, ma potremmo vedere qualsiasi altra regione e qua troviamo una serie di monete che possiamo andare a vedere nel dettaglio, ingrandire, eccetera, non è aggiornatissimo il sito, nel senso che prima di andare io vi consiglio di chiamare, perché uno potrebbero esserci monete che non vedete sul sito, ma che sono disponibili, viceversa alcune monete che vedete sul sito magari sono già state acquistate. Anche qua è molto bello perché comunque le monete le potete aprire e vedere online. Questa ad esempio è una medaglia dell'incoronazione del Regno Lombardo Veneto, quindi per la Repubblica, per il Regno d'Italia, per gli stati preunitari, questo è un altro sito che vi consiglio sicuramente, negozio fisico oppure login, registrati, carrello, si può comprare online, tutte le monete anche del Regno d'Italia e così via. Qua tra l'altro ho comprato diversi scudi, quindi con le monete d'argento che circolavano in Europa nell'Ottocento e anche qui se fornite una mancolista vi procurano tutte le monete che volete. Per concludere invece mi piacerebbe far vedere un sito di aste online francese, cgb.fr, che ha un e-shop, quindi potete acquistare monete online, ad esempio andiamo a vedere monete del mondo, per monete del mondo si intende anche italiane, andiamo a scegliere il paese, Italia, qui abbiamo tutti anche gli stati preunitari, andiamo a vedere ad esempio il periodo napoleonico e qui avete tutte le monete. Il bello di questo sito è che ci sono le monete a prezzo fisso, come potete vedere qua, sono monete un po' per tutti i portafogli, quindi da monete d'oro molto alte come prezzo, monete molto più abbordabili, ma il bello è che c'è anche un'asta online settimanale, quindi tutte le settimane c'è una nuova asta per monete greche, monete romane, bizantine, eccetera, eccetera, euro, monete moderne, monete del mondo. Quindi io consiglio su questo sito sempre di comprare in asta, si fanno davvero degli ottimi affari, in quanto magari ci sono monete che valgono 100 euro, rimangono in asta una sola settimana, quella settimana nessuno si accorge fra gli interessati che c'è quella moneta e magari voi ve la portate a casa a 20 euro. Ovviamente non è che cade tutti i giorni, bisogna avere tanta pazienza e si possono fare dei buoni affari. Il bello di questo sito sono soprattutto le monete antiche, quindi monete romane. Come potete vedere le aste partono tutte da 1 euro, quindi ad esempio questa moneta non è stata ancora oggetto di offerta e per adesso con 1 euro ce la possiamo portare a casa. Qua ci sono monete anche secondo me abbastanza carine, tipo questo è un Antoniniano dell'imperatore postumo, valore 45 euro, per adesso l'offerta massima è 5 euro tra i partecipanti. Possiamo vederla nel dettaglio, quindi c'è l'immagine, ci sono tutte le caratteristiche, la percentuale di argento, la data di emissione, la città dove è stata coniata, il peso, eccetera eccetera e sotto abbiamo anche tutti i dati per poterla catalogare. Il bello di questo sito sono appunto secondo me soprattutto le monete antiche, quindi come questa ad esempio. Vi ricordo che per le monete antiche serve per forza un certificato di acquisto, di conseguenza se le monete euro vi ho consigliato di acquistarle ai mercatini, queste assolutamente no, non è una questione di consiglio o non consiglio, ma proprio non è legale acquistarle ai mercatini, bisogna avere appunto proprio la ricevuta, che ovviamente questo sito vi fa essendo un sito molto serio. Ci sono poi anche le monete euro, le banconote ad esempio, quindi se volete banconote di qualsiasi tipo vi consiglio di acquistarle qui, ci sono monete e banconote a partire da 1 euro e tutte le settimane ci sono nuove aste. Quindi abbiamo visto i cataloghi per euro, regno, repubblica, abbiamo visto dove poterci informare su internet, quindi il sito La Moneta, quali sono i migliori negozi secondo me sia online che fisici per euro, regno, repubblica e anche monete antiche. Quindi vi ringrazio per avermi seguito fino qua, spero che l'audio sia stato buono, è la prima volta che provo a fare questa tipologia di video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!